La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo, nuovamente in Italia. Decine di anni di disinformazione e di depistaggi ci hanno fatto credere che durante la strategia della tensione i grandi burattinai portassero il nome di personaggi come Licio Gelli, Roberto Calvi, Michele Sindona. Ho spiegato nei dettagli che questi personaggi erano in realtà dei semplici burattini, certo dei burattini come nel caso di Licio Gelli a cui hanno dato grandissimo potere, ma era un potere appaltato, appaltato dagli apparati anglo-americani, quelli che io nel mio libro definisco un vero e proprio cartello. Tanti mi avete chiesto ma allora chi sono questi burattinai, chi sono i vertici del cartello? Vi faccio soltanto qualche nome che per lo più sarà sicuramente sconosciuto alla maggior parte di voi. Per esempio c'è un personaggio che si chiama Allen Dulles, che è stato direttore della CIA dal 1953 al 1961, è stato il più longevo direttore della CIA, oltre ad essere stato il primo direttore civile della CIA. Bene, questo Allen Dulles per esempio aveva un potere enorme. Perché aveva un potere enorme? Perché parallelamente suo fratello John Foster Dulles è stato segretario di Stato americano dal 1953 al 1959. Quindi per la prima volta nella storia due fratelli ricoprivano due ruoli ai vertici negli Stati Uniti, ruoli che solitamente devono controbilanciarsi, stiamo parlando del segretario di Stato americano e del direttore della CIA. Invece in quegli anni erano ricoperti addirittura da due fratelli, John Foster Dulles e Allen Dulles, che erano affiancati da tale William Donovan, detto William il selvaggio, William Donovan era il capo dell'OSS, Office of Strategic Service, ossia il precursore della CIA, e nella OSS lavorava appunto Allen Dulles, Allen Dulles che tra l'altro era imparentato con David Rockefeller. Quindi immaginate il potere che avevano questi uomini, avendo in mano la grande finanza statunitense con Rockefeller, avendo in mano i servizi segreti, avendo in mano l'OSS poi diventata la CIA, e avendo in mano il segretario di Stato americano. Un potere enorme che loro utilizzeranno in maniera assolutamente spregiudicata. In funzione ovviamente anticomunista, erano degli anticomunisti viscerali, erano delle persone che erano disposte a tutto, pur di imporre le proprie idee. Ed è quello che fecero. Pensate che Allen Dulles, io nei documenti dei segretati che ho analizzato nella mia inchiesta, l'ho ritrovato per esempio nei file in cui la CIA inveiva contro il presidente dell'ENI Enrico Mattei per quello che stava facendo, il fatto che stesse portando l'Italia ad una sorta di indipendenza energetica, comunque stava lottando contro le sette sorelle. Quindi Allen Dulles me lo ritrovo nei file che ho analizzato a proposito di Enrico Mattei. Ma lo stesso Allen Dulles io me lo ritrovo anche in degli incontri in Svizzera con Adriano Olivetti, che era stato convocato proprio da Allen Dulles, che addirittura, e qui vi dico qualcosa in anteprima che non avrete mai sentito prima, addirittura Adriano Olivetti per un periodo fu costretto a diventare un agente della CIA, un agente di Dulles in funzione antifascista. Perché Olivetti fece questa scelta? Perché si era reso conto che gli anglo-americani si stavano intestando da soli la liberazione dell'Italia e che avrebbero quindi imposto agli italiani un armistizio in cui l'Italia cedeva qualsiasi sovranità, quindi una resa senza alcuna condizione. Olivetti furbamente era una persona molto scalta, decise invece di dare il proprio supporto in funzione antifascista, era collegato con diversi gruppi antifascisti sia sul territorio italiano sia all'estero, quindi andò ad incontrare in Svizzera proprio Allen Dulles per dire in Italia ci pensiamo noi, ci adoperiamo per la caduta del fascismo, ma dopo pretendiamo anche noi un ruolo nei futuri governi. Non accettiamo che gli anglo-americani si intestino in tutto e per tutto la cacciata del fascismo e che quindi escludano categoricamente chi come me si sta adoperando per liberare l'Italia. Allen Dulles rese Olivetti un agente in quel momento della CIA in funzione antifascista, ma sapeva benissimo che il programma che Olivetti aveva fisicamente portato ad Allen Dulles non era un programma che andava nella stessa direzione che volevano gli apparati americani per l'Italia, era un programma all'insegna della comunità, così come si chiamerà il partito politico di Adriano Olivetti, era un partito che puntava tutto sulla sovranità dell'Italia, quindi sicuramente lasciando l'Italia sul fronte atlantista, sullo scacchiere geopolitico, però con una propria sovranità, con una propria voce in capitolo. Questo ad Olivetti non glielo permisero, e infatti, guarda caso, Olivetti morirà proprio durante un viaggio in treno in Svizzera, dove in quel periodo erano di stanza i servizi americani e Allen Dulles. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.